l'hai aggiustato va bene così dai per favore lettrice leggici delle storie e infine qui il sole veniva a un grillo con gli occhi verdizzi voglio mangiare la presa e la portata sulla lingua così la parlava più su al cuore fino alle fomiche che vanno in pello più agliato qui i lucili cantano erano da qui la giraffa aveva tanta voglio mangiare qui lunga la strada non ritrova la sua casa infine qui c'è la sua casa e questi sono i suoi piccoli puntetoni il fronto ha degli occhi gialli mi metto così mi metto così mi metto così il Peytonio mi metto così mi metto così e quelli facevano indolare agli occhi rossi, e gli occhi mi potevano brintontare come rinvoziare un intanto che andavano in alcuni, alla terza pagina, chiudevi gli occhi e il simbolo in matricicione, in canto, in grillo, andava da questa parte. Ma io non sto leggendo. Puoi leggere lo stesso? Ma siete una commedia voi due? Oh! Oh, oh. Oh! Oh, oh. Oh! Oh, oh, oh. Oh, oh. è per quello che ha detto che voglio fare il video non ce la faccio mi aiuti mi arrivi il segno vedi qua prendi la punta prendi la punta è tanto? è piccola finisci questa lettura? lettrice? ok dai risiediti giù e leggici sta cosa in interno in interno mamma è piccola la mamma ma che brava questa è un'elettrice movimentata non è così tranquilla mi sa come si dice? fine bella storia questa è un'elettrice in interno con le Bush